Un mercato che nel 2018 si è messo a correre laddove altre tipologie del calice hanno segnato il passo. Più 31% in Francia, più 17% in Italia. Il colore rosa è la tonalità magica del vino in questo momento. Nel mondo ne vengono prodotti 20,3 milioni di ettolitri, in Italia poco più di 2 milioni, in Puglia 4 milioni di litri. Il calice pugliese ha progressivamente diminuito le quantità per aumentare la qualità e quindi l'appetibilità sul mercato delle produzioni dei vitigni autoctoni. Il rosato si inserisce in una proposta più ampia, di uno stile di vita salentino, pugliese, che in qualche modo ha degli ingredienti, degli elementi identitari che possono fare presa su un turismo di un determinato livello. Charmin Rosa, cura dell'Associazione Italiana Sommelier, ha portato a Lecce esperti del settore e oltre mille appassionati, fotografando un parallelo cammino di qualità sia nella produzione enologica che nel turismo, dopo gli anni di un boom incontrollato, soprattutto in un territorio simbolo come il Salento. E questo è il turismo sul quale stiamo puntando. Un turismo che valorizza la cultura, l'enogastronomia, il paesaggio, che valorizza i nostri monumenti, i centri storici, ma nello stesso tempo sa raccontare i prodotti e i piatti. E tra questi prodotti i rosati la fanno da padrone, perché è una caratteristica, è un prodotto quasi identitario, direi. E per questa ragione che apprezziamo molto l'iniziativa dell'AIS. Questo charmo non è solo sensualità emozionale, ma anche il ragionamento intorno alle potenzialità future della promozione congiunta tra calice e territorio. Noi abbiamo la necessità che questa specificità enologica diventi patrimonio collettivo, che diventi patrimonio dei nostri ristoratori, dei nostri bar, delle nostre attività ricettive. Finché non otterremo questo risultato, noi rimarremo sempre a metà strada. Una storia che nasce a Salice e Salentino nel 1925. La famiglia Leone De Castris inizia l'imbottigliamento dei suoi vini. Tra loro c'è quello che nel 1943 l'ufficiale dell'esercito americano, Charles Poletti, farà ribattezzare Five Roses. Perché dietro ogni charme c'è una storia antica di terra. Il vino aiuta il turismo. E non dimentichiamo che il mondo del vino ha trascinato sempre in tutte le varie zone il turismo, con la cultura, con la storia. E questa selezione, questo fatto che il Salento si propone, continua a riproporsi con innovazione sulla qualità. Una tipologia che attrae anche un pubblico femminile di giovani consumatori. Esattamente, anche il pubblico giovanile è affascinato da questo mondo, soprattutto poi per quanto riguarda le versioni spumantizzate del rosato. In una terra così calda e assolata come la nostra, non si può non degustare le nostre eccellenze abbinandole ad un'ottima bollicina, piuttosto che un fermo rosato. Non solo Lecce è una delle capitali del barocco in Europa, ma anche Salice, Guagnano, San Pancrazio, Novoli. Con un bacino di quasi 800 mila abitanti, la delegazione AIS di Lecce può contare su 700 iscritti e oltre mille frequentatori delle iniziative targate sommelier, numeri da metropoli, altro che provincia. L'attestazione di stima e di fiducia da parte di tutte queste persone fanno sì che oggi AIS Lecce conti oltre 700 soci e continui a crescere in quelle che sono poi le attività sia conviviali come queste ma anche le attività didattiche per i quali ogni anno sforniamo, passatemi il termine, dai 60 ai 120 sommelier per ogni sessione. La serata continua sopra il traffico Leccese, molti che non hanno utilizzato le prevendite dei biglietti via internet restano fuori perché lo spazio è saturo di gente e di entusiasmo, perché lo charme attrae, specie se all'emozione unisce un pizzico di consapevolezza.